Comunque, voi due che cosa stavate facendo qui? Non ditemi che siete usciti insieme. Cosa? Inata, come ti è venuta in mente questa idea? Se scopro che gli stai facendo il filo, ti faccio fuori. Abbi almeno il coraggio di ammetterlo! Inata, guarda che ti sbagli! Ehi ragazze, calmatevi per favore! E tu? Per quale motivo la stai difendendo? Senti Sakura, vai a casa, ti prego! Sì, certo, forse è meglio. Secondo me se erano qui è solo per un motivo. Ma cosa? Scappano! Allora state insieme! Fermatevi subito! Nessuno mi ascolta.